L'amministrazione comunale di Bellizzi guidata da Pino Salvioli con delibera di giunta ha dato via al progetto per l'installazione di un chiosco dell'acqua al fine di fornire un servizio ai propri cittadini e nel contempo ridurre la produzione di rifiuti plastici derivanti dagli imballaggi prodotti dal consumo di acqua minerale imbottigliata. Le case dell'acqua sono appositi chioschi che verranno installati sul territorio comunale e sono direttamente collegati alla rete idrica. L'acqua erogata, naturale o gassata, avrà la caratteristica di essere stata microfiltrata nell'impianto. Nella piazzetta dell'acqua va sottolineato che oltre all'acqua microfiltrata a basso costo funzioneranno fontane pubbliche a costo zero, le quali erogheranno acqua proveniente direttamente dall'acquedotto. La piazzetta dell'acqua dove sarà installato l'impianto è stata individuata nei pressi di via Machiavelli in adiacenza al torrente Lama. Insomma un risparmio per tutti, un punto di incontro dove trovare un'acqua buona e a basso costo o a costo zero. Il progetto aggiunge salvioli anche un risparmio ecologico perché evita la produzione e lo smaltimento di bottiglie di plastica creando un risparmio al comune che dovrà smaltire meno rifiuti. La casa dell'acqua insieme alla raccolta differenziata e all'installazione dei pannelli fotovoltaici sugli edifici pubblici sono in linea con la salvaguardia dell'ambiente, punto fondamentale della mia amministrazione.